La migliore squadra di Detectives in circolazione è su Boomerang! Oh oh! Ci li siamo! È una squadra che ha anni di esperienza e usa metodi davvero originali! Sono Titti, Silvestro, Nonna Granny ed Ettore! Nella nuova serie, i misteri di Silvestro e Titti! Sabato e domenica, alle 14.20 e alle 21.20! Elementare su Boomerang!